Salve a tutti, buongiorno, benvenuti all'Accademia di Brera. Io sono il professor Ciocia, mi occupo di grafica digitale, di scultura digitale, di modellazione e sono qui per presentarvi il corso di tecniche di modellazione digitale computer 3D. Quindi immagino che come studenti dell'Accademia abbiate sicuramente dentro di voi il fuoco sacro della creatività e quindi sono convinto che vogliate sicuramente approfondire quelle che sono le tecniche, le strumentazioni per arrivare a essere veramente creativi. Sono convinto che creatività sia fondamentalmente l'unione di due concetti assolutamente fondamentali e importanti che sono la propria fantasia ma anche l'estrema concretezza. Quindi il nostro corso si svilupperà proprio in questo senso, cioè andrà a offrire quelle che sono le tecniche più evolute, più approfondite per la modellazione digitale. In particolare la modellazione che cosa potrà fare? Potrà dare vita alle nostre idee, agli oggetti che abbiamo in mente, ai personaggi che vogliamo costruire e a tutto quello che vogliamo realizzare e vogliamo proporre per ovviamente avere un ritorno concreto di quello che è il nostro progetto. Come si svilupperà il corso? Sostanzialmente noi andremo a analizzare quelli che sono i personaggi, i personaggi che sono già stati inventati, che sono stati costruiti, che sono stati realizzati e attraverso l'approfondimento quindi di quelle che sono anche le tecniche di comunicazione per costruire il personaggio vedremo come sfruttare le tecniche di modellazione per arrivare a costruire il personaggio. Naturalmente le tecniche di modellazione saranno l'aspetto principale del nostro corso ma ci occuperemo anche di forma, di geometria, quindi di come una geometria e una forma può comunicare emozioni, sentimenti, così come può fare il colore, il bilanciamento di un colore, la creazione di abbinamenti cromatici e in questo modo andremo ad approfondire quindi quelli che sono tutti i canali di comunicazione che costruiscono, che danno vita al personaggio, quindi che danno vita al nostro personaggio. L'obiettivo principale in ogni caso sarà quello di approfondire le tecniche di modellazione. La tecnica di modellazione principalmente si sviluppa attraverso un processo molto semplice, si modella un oggetto, un soggetto, un personaggio, un ambiente, a questo modello si dà vita tramite l'abbinamento di texture con la tecnica della mappatura UV, si costruiscono le texture, si associano alla geometria che è stata costruita e si inserisce il tutto in un ambiente che è tridimensionale, un ambiente dove noi possiamo poi impostare le luci, le illuminazioni, le ombre, gli effetti, la nebbia, tutto quello che vogliamo e in questo modo andiamo a costruire il progetto completo, il progetto finito. Le tecniche di modellazione che affronteremo sono quelle assolutamente più diffuse, più potenti, che sono le tecniche di modellazione poligonale e le tecniche di modellazione NURBS. In questo modo quello che apprenderemo potrà essere poi ovviamente utilizzato per la costruzione, la creazione, la realizzazione di qualsiasi tipo di soggetto che la nostra fantasia ci andrà a suggerire. Così facendo avremo sicuramente ampliato il nostro bagaglio strumentale, la nostra tecnica. Per poter fare questo premetto che la costruzione di un soggetto tridimensionale richiede comunque un certo allenamento, una certa pratica e è molto importante proprio l'aspetto della sperimentazione personale, della prova personale. Infatti il corso sarà molto operativo, gli studenti saranno simulati a produrre, a costruire progetti in modo tale da poter verificare di avere appreso le tecniche e soprattutto di poter sperimentare le tecniche e di trovare quello che è il proprio percorso personale. Quindi sarà un corso decisamente operativo, concreto e che aumenterà le capacità tecniche. Questo è l'obiettivo principale. I software che andremo ad utilizzare sono sostanzialmente due. Uno è Autodesk Maya che è un mostro sacro della costruzione tridimensionale, non è mai utilizzato per creare film, effetti speciali, inserti digitali nei filmati e così via. È comunque un software che una volta appreso permette di costruire un film intero dalla costruzione del soggetto, del personaggio fino alla realizzazione degli effetti speciali, particellari, fluidi e così via. Quindi questo è il software che andremo ad apprendere. Noi ci limiteremo a conoscerne e approfondire la parte della modellazione, della creazione delle texture, della mappatura, della creazione del rendering, che è poi la trasformazione del nostro progetto in elaborati digitali bidimensionali e quindi ci occuperemo principalmente di questo. L'altro aspetto che andremo a studiare in profondità è quello della creazione di espressioni facciali che andremo ad applicare sul nostro personaggio. Quindi vedremo di dare vita, di dare sentimenti, emozioni al personaggio studiando la tecnica del blend shape, che sostanzialmente è una tecnica relativamente semplice che ci permette di dare vita, di dare espressione al viso, al personaggio che noi abbiamo costruito. Questa tecnica permette di evitare la creazione comunque di uno scheletro che andrà inserito all'interno del personaggio, quindi di creare poi tutto quello che è l'aspetto relativo all'animazione finale di un personaggio, ma si limiterà semplicemente ad andare a inserire dei controlli sul viso, quindi su quelli che sono i muscoli del viso che danno le espressioni facciali e quindi noi analizzeremo questo aspetto, come dare espressione al personaggio. Un altro software che conosceremo e che sfrutteremo nella sua potenzialità è ZBrush, un software di scultura digitale che permette di modificare una qualsiasi materia con l'ausilio di una tavoletta grafica con una penna sensibile alla pressione, potremo creare una scultura di un nostro progetto, una scultura quindi di un nostro personaggio e soprattutto potremo andare a inserire dettagli esasperati, dettagli assolutamente incredibili che permetteranno di rifinire in maniera notevole, con una qualità assolutamente professionale, il nostro soggetto. Il tutto quindi porterà poi al completamento delle nostre operazioni. Bene, credo di avervi detto tutto, sostanzialmente concludo con alcuni dettagli sul corso, il corso inizierà lunedì prossimo, lunedì 10 alle 9 in aula 205. La strumentazione e l'hardware che abbiamo a disposizione sono dei PC che sono particolarmente performanti, avremo delle tavolette grafiche a disposizione e potremo sicuramente iniziare il nostro percorso. Vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e ci vedremo lunedì qui a Brera 2. Arrivederci.